è molto facile, è rompere io non so se sia per fare un po' di animale ma per la sua per una bella poi storta o per dolori 2 mesi 4 mi attaggiano a 3 mesi 2 pezzi facendo anestesia locale spero di sì non lo so mi spiegavano che a loro lo si può fare per fare questo lavoro e non lo si può fare io faccio un bulbaschi a un musica bravo di compagnia sono quelli qua sentata quando si vedono ancora prima poi ci sono più buoni che da guardi più buoni che da guardi allora si apre la porta con un fattiare qui non fa dire si apre la porta al corriere come ci siamo? da dietro da dietro da dietro da dietro da dietro da dietro per la via le gambe tutte maschiate bene tutte tappette tutte le gambe perché il cane qua si stressa qua in questo bienti i cani si stressano non c'è capito ma non c'era se mi frega abbastanza anche i conti d'articcio che si chiamano qua si spaventerà fregato nulla qui va a cercare il buco in casa il buco più nascosto che c'è andate ciao eh andate 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.